Edoardo Falcone sei il regista di Io sono Babbo Natale dopo il tuo esordio con se Dio vuole e il secondo film a questione di karma dove è affrontato prima la religione poi l'esoterismo qui ti trovi a affrontare un altro tema scottante che è quello del Natale nuovamente con due protagonisti maschili che sono Marco Giallini e il grande Gigi Proietti quindi innanzitutto come siamo passati dalla religione all'esoterismo fino a Babbo Natale casualmente nel senso non era mia intenzione fare un film su Babbo Natale mi è stato chiesto io non lo volevo fare poi ho riflettendo ho capito che attraverso una storia su Babbo Natale potevo anche raccontare le cose che mi interessano in realtà è vero che i primi due parlavano di religione esoterismo ma parlavano anche della possibilità di avere una trasformazione in evoluzione e anche questa è la storia di due persone una più evoluta l'altra meno che dal loro incontro permettono alla persona meno evoluta di crescere in realtà è tutto simbolico se mi passi il termine infatti diciamo è un po' come Babbo Natale che quindi è abituato a dare senza chiedere niente in cambio mentre invece Marco Giallini è quello che invece è la figura classica dell'essere umano che non va oltre il proprio ego e quindi tutta la sua vita è legata al prendere e al vivere male perché poi comunque è una condizione che non ti fa stare bene e qui poi piano piano scopriremo che in realtà quello che è lui è il frutto di quello che è stato quando era piccolo e quindi in qualche modo quindi forse discorso di questione di karma pure perché poi le cose si interacciono e ritornano tra l'altro tu hai scritto questo film proprio pensando a loro due come attori assolutamente e mentre scrivevo penso subito sono perfetti e quindi appena ho finito la sceneggiatura abbiamo contattato i due attori e hanno accettato quindi è stato fantastico ma visto che sono il tipo che tipo che sono loro due che tipo di set è stato il vostro ma un set diciamo relativamente tranquillo anche perché in realtà è anche un film se ci fai caso di pochi attori e quindi è stato un set anche caldo tranquillo poi Marco amava tantissimo Gigi e quindi si metteva proprio a sua disposizione naturalmente Gigi era una persona altruista umanamente strepitoso e quindi per quanto riguarda i rapporti umani è andato tutto benissimo poi chiaramente bisogna lavorare sulle cose e quindi anche quelle personalità vanno controllate per ottenere il risultato e restando su Gigi qual è la cosa che più ti ha sorpreso di lui magari che non ti aspettavi poi lavorandoci insieme beh un attore del genere che ha fatto tutto quello che ha fatto trovarlo quasi così umile così dolce anche nel dirti poi ti chiedeva non che fosse insicuro però ti chiedeva come secondo te è giusto così come sono andato e sembrava di parlare con uno che aveva cominciato adesso invece c'aveva quel po' di esperienza insomma mi ha fatto veramente una grande impressione a livello positivo per la persona del genere ecco un aspetto di questo film rispetto alla media insomma dei film italiani è che c'è anche un tocco di fantasy ma soprattutto di effetti speciali sì e anche quelli insomma non avete, dico batata a spese però insomma vi sentite da fare anche con quelli sì però secondo me perché è un po' la linea che abbiamo cercato io con Rodolfo Migliari che ha curato gli effetti quindi volevamo degli effetti non eccessivi cercavamo una certa matericità anche degli effetti perché per mantenere quell'impostazione un po' realistica sì e poi non volevo che portassi troppo lontano perché la vicenda umana doveva prevalere su tutto tutto doveva essere normale e giustificato proprio per non portare, per non far venire meno l'empatia del pubblico con i personaggi ecco e essere alla festa del cinema di Roma nel momento della ripartenza quindi anche poi poter uscire in sala quando uscirete con il 100% del pubblico dopo che il vostro film è stato già come dire fermato a causa pandemia l'anno scorso avevi speranza di riuscire comunque ad uscire in sala o ti eri quasi fra virgolette perché comunque non è non voglio dargli un'accezione negativa, ti eri quasi rassegnato a finire sulla piattaforma magari guardate rassegnato no, pronto a tutto sì perché sono passati talmente tanti mesi chiaramente io ho seguito tutti questi mesi, si apre, non si apre più piattaforma cinema quindi sono molto contento che posso dire questo, essere arrivato poi tantomeno ancora di più alla festa del cinema, beh è una bella soddisfazione c'è una categoria di persone che pensi che invece dovrebbero proprio vedere questo film? guarda senza entrare nell'umano ti dico questo, vorrei che lo vedessero tutti quelli che pensano che in Italia non c'è mai una buona commedia, che ormai non si fanno più buone commedie in Italia con tutta la presunzione possibile però magari forse si possono ricredere insomma ok e quindi diamo l'appuntamento finale dal 3 novembre, io sono Babbo Natale con Marco Gelini e Gigi Proietti, vi aspettiamo perfetto, grazie e complimenti grazie, grazie a te grazie a te